Venerdì 13 gennaio ripartirà la stagione dell'Officina Teatrale degli Anacoletti con lo spettacolo Circo Kafka che andrà in scena alle ore 21 presso l'Officina di Corso de Gregori 28. Si tratta di una produzione Teatro Metastasio di Prato e TPE, Teatro Piemonte Europa, con la regia di Claudio Morganti, con Roberto Abbiati e con la partecipazione di Johannes Schlösser. La vicenda che viene messa in scena è quella del processo di Kafka. Si tratta di una proiezione fantastica di ciò che ha scritto l'autore. L'ambientazione è quella del circo, un circo nel quale si muovono tutti i personaggi che vengono interpretati da Roberto Abbiati. È uno spettacolo fatto soprattutto di suoni, uno spettacolo in cui la costruzione sonora sostiene la vicenda e la porta avanti. È uno spettacolo in cui gli oggetti diventano a volte sono degli strumenti musicali e che permettono di raccontarci forse più di quello che ci direbbero le parole. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni vi invitiamo a scriverci a spettacoli.chiocciolanacoletti.org Oppure chiamarci al 335-575-0907 E ora lascio la parola a Roberto Abbiati che vi farà capire molto meglio di me di che cosa si tratta. Noi vi aspettiamo il 13. Allora, è circo Kafka, è dal processo di Kafka ed è il processo, quindi è una cosa che ha come dentro di sé, cioè è il processo di Kafka. Però l'abbiamo chiamato circo Kafka, per cui ha una specie di leggerezza dentro che permette, è neanche così, il processo di Kafka. L'abbiamo chiamato circo Kafka perché nel circo noi possiamo mettere dentro, c'è sia il dramma che la comicità, c'è uno, c'è l'altro, è uno spettacolo che ha dentro tutto. L'abbiamo chiamato circo